Ora taglierò questa bottiglia cercando di tagliarmi con una mano mi farò un bicchiere e guerrò in questo modo dalla sorgiva che ci dà acqua di bontà superiore e incontaminata l'unica mia paura è che possa essere un po' fredda magari l'acqua però dai insomma il soggetto inesperto utilizza la parte alta della bottiglia per riempire questo non è da fare, imparatelo che è priva di tappo, mettici il tappo Prova a bere ma grande idea, proviamo a chiuderla con il tappo Vai, butta giù veloce dai, ci sono un fiato, com'è? Ah che buona Vediamo lo stomaco Però in effetti è un po' fredda Guardiamo lo stomaco Dio madonna Lascia il bicchiere Buon è un otto Eh torno, torno fra un attimo Siamo dopo Siamo dopo